Lo straniero Sirila che è tornato a disposizione del tecnico Bernardi, ha già raggiunto Pian di Massiano e si è già allenato con i compagni di squadra. Sentiamo Elena Ballarani. Un altro Block Davids è arrivato al Palevangelisti. Mercoledì sera ha raggiunto Perugia direttamente dalla Finlandia Tommy Sirila. Il centrale scandinavo è terminata l'esperienza agli europei con la propria nazionale e dopo alcuni giorni di riposo, dall'allenamento di ieri pomeriggio è a disposizione di coach Lorenzo Bernardi, portando a sette il numero dei giocatori presenti e in attesa in questo fine settimana del ritorno a Perugia dei serbi medaglie di bronzo agli europei Podrashkanin e Atanasievic e dell'argentino Luciano De Cecco, fresco di qualificazione con la sua nazionale per i mondiali del 2018. Sono partiti ieri invece alla volta del Giappone Massimo Colace e Fabio Ricci che insieme ai loro compagni azzurri difenderanno i colori dell'Italia nella Grand Champions Cup in programma nel paese del Sollevante dal 12 al 17 settembre.